Robò che si occupano della mongitura, un'app che consente in tempo reale di conoscere il valore del latte conferito, il futuro è già presente. Con un investimento di 6 milioni di euro è nato infatti il progetto Montagne Movimento, idea presentata a Milano, sostenuta da Regione Lombardia con 2,2 milioni. Protagonista la Latteria Sociale Valtellina, realtà che riunisce 110 aziende con 120 dipendenti, un fatturato che supera i 30 milioni di euro. In agenda la riqualificazione delle aziende agricole e l'ammodernamento di quattro siti produttivi. L'automazione entra nelle stalle, verranno infatti introdotti robot per la mongitura, sistemi meccanici per la gestione delle mandrie, nuovi box per i vitelli, un sistema per la biodegradazione delle acque e reflui dei prodotti usati in agricoltura. Attraverso questo progetto di filiera, spiega Marco Deghi, direttore della Latteria Sociale Valtellina, la cooperativa potrà rafforzare la propria struttura industriale e le aziende agricole e socie avranno l'opportunità di crescere e svilupparsi grazie all'innovazione tecnologica. Dagli obiettivi, ottenere il marchio prodotto di montagna, ampliare la feta di mercato, aumentare il benessere animale, ridurre l'impatto ambientale. Partner della Latteria Sociale Valtellina, capofila del progetto, il consorzio Consolida, Promocop, Società di Conf Cooperative Lombardia, la Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università degli Studi di Milano, Ateneo con il quale si sta lavorando per l'implementazione di un'app per gli allevatori. Direttamente dalla stalla, con lo smartphone, potranno infatti tenere traccia di ogni informazione che riguarda produzione e qualità del latte. L'app che nasce all'interno della Latteria Sociale Valtellina, spiega Attilio Tartarini, coordinatore del progetto integrato di filiera, permette uno scambio continuo tra la cooperativa e gli allevatori, che potranno così avere informazioni in tempo reale. Questo consentirà agli allevatori un intervento immediato sulla produzione per migliorare la qualità e ottenere così, in base ai livelli raggiunti, una maggior remunerazione. La visione della Latteria Sociale Valtellina, più in generale della cooperazione, di puntare sulla sostenibilità è quella giusta, sottolinea l'assessore regionale all'agricoltura Fabio Rolfi.